In attesa che il Molfetta riesca a sbloccarsi da trovare la prima vittoria in campionato, ha fatto discutere l'ultimo post diffuso tramite social da parte dell'ex socio Ennio Cormio, che ha espresso il suo disappunto sul rendimento della squadra di Bartoli e sulla gestione del club bianco-rosso. Stanno rompendo, ha scritto il mio giocattolo. Cosa dice la storia? Che dopo 30 anni con la collaborazione di altri due soci siamo riusciti a portare la Molfetta in Serie D. I sacrifici personali sono stati inenarrabili e per la verità ne hanno sofferto la mia famiglia e la mia azienda, a differenza di altri che portavano soltanto sponsor. Ne sono fuori perché già da novembre del 2021 non ero d'accordo con la gestione tecnica, ma il mio socio e un'altra persona decidevano che non avessi ragione. Non si è fatta attendere la replica societaria proprio all'ex socio. Confermiamo, si legge nella nota, che il giocattolo è in buone mani dopo aver corso il rischio di rompersi definitivamente per via del comportamento del precedente gestore. Cinque tifosi veri, con ingenti finanziamenti, hanno rimesso in corsa la Molfetta Calcio. La conferma viene dal fatto che si sta ancora pagando debiti di oltre un anno che il gestore ha lasciato ai nuovi soci. Poi si prosegue. La smetta di sputare veleno lasciandone a noi la cura, dato che lo aveva gravemente malandato. Sapremo cosa fare senza dover ascoltare le sue lamentele. A noi sta a cuore la Molfetta Calcio molto più di quanto stesse a lei. Se ne faccia una ragione, sabato 22 ottobre, conferenza stampa societaria al Poli per ritornare nuovamente sull'argomento.